Conversazione con Salusa del 5 marzo 2012 a Laura Tico, messaggio privato Tauk, siamo molto lieti di assistere, ai motivati sviluppi della luce sul vostro mondo. L'energia della vostra coscienza, che si registra oggi, è composta di libertà. È il desiderio di mettere da parte, l'intero vecchio paradigma per iniziare un mondo basato sull'amore, la trasparenza e la giustizia. Si tratta di un cambiamento importante, per la vostra coscienza collettiva, e vedervi lavorare insieme verso un obiettivo comune, è un catalizzatore in sé. Tuttavia vorremmo ricordare che i cambiamenti osservati nella vostra arena politica ed economica, sono un riflesso del vostro stato, e sta venendo alla luce. Le energie di luce stanno riempiendo il vostro essere, attraverso il respiro, attraverso i della pelle, attraverso la vostra consapevolezza cosciente. Sedetevi tranquillamente per tutta la giornata, alla ricerca di contatto interiore, basta osservare ciò che è. Com'è la vostra postura, come vi sentite, come si fa a percepire il mondo esterno? Basta essere, osservare i vostri pensieri, le vostre energie del corpo, sentire il vostro corpo muoversi, con il vostro respiro, prendete coscientemente le energie delicate, a vostra disposizione, in qualsiasi momento della vostra esperienza di vita, sulla Terra Madre, avete accettato questa incarnazione, per trasmutare le energie di vibrazione più elevata, all'interno della vostra vita, il vostro corpo, e in tutti i modi, attraverso di voi nel cuore e l'essere di Madre Terra. Siate con ciò che è, tutti i giorni, guardate ciò che è reale, e ciò che è illusione. Fate questo, come se non aveste idea di quello che vi farà scoprire, potreste sorprendervi. Quando si è consapevoli di ciò che è reale, quando vi vedete per quello che realmente siete, il livello di coscienza aumenta, in modo esponenziale, è possibile essere presenti nella vostra vita attiva, e anche essere a conoscenza del vostro vero essere, la vostra vera missione sulla Terra, ricollegandovi regolarmente con la vostra vita interiore, il sé superiore. Tutta la conoscenza è incisa all'interno di tutti voi, è necessario riscoprire il modo di ascoltare il vostro vero Io, la vostra vera voce interiore. Entrare in sintonia con quella voce, tra le tante voci provenienti da influenze esterne. Per essere in grado di entrare in sintonia con la vostra vera voce, è necessario, che troviate la pace interiore, l'amore e l'accettazione per voi stessi, così come per tutti coloro che condividono la vostra vita. Ora è il momento in cui è necessario essere ancorati nella realtà, e confortare molti intorno a voi. Per farlo, avete bisogno di essere collegati all'interno del vostro sé, e di essere fortemente collegati, al mondo sopra la testa, così come per il mondo sotto i vostri piedi. Ora è il momento di capire perché avete intrapreso molte incarnazioni, per l'importante missione dell'ascensione della Terra. Ora è il momento in cui tutta la sofferenza, che avete sopportato attraverso la catena delle reincarnazioni su Madre Terra, finalmente assumono un nuovo significato per voi. Ora è il momento di capire chi siete, e perché siete sulla Madre Terra in questo momento. Io sono il Siriano Salusa e, per quanto riguarda alla vostra ascensione collettiva, possiamo assicurarvi che questa volta, è molto più vicina di quanto siete portati a credere. In realtà, questa volta è nelle vostre mani, e mentre una data precisa è impossibile da dare, noi lo anticiperemo, con il livello di lavoro cosciente, che state per raggiungere, tale che molti frammenti cadranno nei giusti posti, nei prossimi giorni. Grazie, Salusa, Laura Tico Grazie, Salusa, Laura Tico